Reisi, non è che rientrate nel PDL? C'è qualche possibilità e a quali condizioni? La prima condizione è di togliere quel vulnus straordinario che è accaduto in un partito democratico come il PDL che come tutti i partiti democratici europei pensavamo consentisse l'esistenza di una minoranza. Cioè il vulnus è l'espulsione del cofondatore di questo partito che si chiama Gianfranco Fini perché da lì nasce il vero problema. Gianfranco Fini nella direzione nazionale alcuni mesi fa dichiara che ci sarebbe stata costituita una minoranza, questo ha portato ad una conflittualità senza precedenti che non ha senso in un partito democratico europeo e alla fine c'è stata questa censura e espulsione perché voi sapete che il Presidente Fini non ha la tessera del PDL perché essendo Presidente della Camera non ha la tessera ma c'è stata la mozione di censura che vale come un'espulsione e insieme a lui l'espulsione di tre colleghi importanti della componente come Bocchino, Briguglio e Granata. Un evento che credo che non mi ricordo a memoria sia mai successo in nessun partito democratico non dico solo in Italia ma nel resto Europa e questo credo che abbia portato poi a quell'evento straordinario anche che è stata la rottura dei gruppi parlamentari.